Buongiorno, good morning Milano, lunedì, lunedì 20 maggio, ben ritrovati, ritrovati entrati dal weekend, come state, cosa state facendo, dove state andando? 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5, il nostro modo di whatsapp, sempre qui per raccontarvi, per sentirvi, per condividere, per leggere, insomma per cantare, tutto quello che volete fare con noi lo possiamo fare, 3 3 1 7 8 5 3 5 5, potete condividere appunto la vostra giornata, la vostra mattinata, noi vi daremo in cambio un po' di notizie, un po' di appuntamenti, oggi poi è lunedì, quindi avremo il sommario della settimana di SentiQuesta con Ambrogio Curti, avremo anche Filippo Poletti con Il Buon Lavoro, insomma tanto tante cose che possiamo fare insieme in queste due ore fino alle 9 qui dove su Cristal Radio, Cristal Radio Milano 96.2 FM e poi Dan Plus, applicazione per il vostro cellulare, il vostro smartphone, sia che sia un iOS o Android e poi comunque i siti internet, cristalradio.it oppure se volete rivedere, ascoltare, sentire, rivivere tutti i pezzi che vi siete persi di Good Morning Milano, goodmorning.milano.it Queste le coordinate, queste le cose che ci sono da sapere all'inizio di ogni puntata, insomma lo sapete, dal lunedì al venerdì noi siamo qua e voi, devo dire, sono molto contento che siete qua con noi, perché è davvero sempre bello avervi al nostro fianco, avervi qui insieme la mattina per iniziare al meglio la giornata, iniziare con la musica, iniziare con le informazioni, iniziare un po' così, alla milanese diciamo. E allora buongiorno Milano, goodmorning Milano, iniziamo con la musica. Francesco Cabani, Francesco Cabani alle 7.13 minuti, qui pronti a iniziare un po' con le nostre notizie. Mattinata bella, piena di informazioni, di ospiti che arriveranno poi qui con noi, ma anche dei vostri, dei vostri whatsapp. Buongiorno Fabio, buongiorno scordatore di Crystal Radio, buongiorno ad Alberto. Si apre una nuova settimana intensa e carica di impegni e non scordiamo l'ombrello che servirà ancora, grazie Alberto per ricordarcelo, perché insomma abbiamo bisogno di ricordarci un po' come andrà questa settimana. Inoltre grazie Alberto per l'apprezzamento, mi dice bel pezzo questo di Cabani, ogni tanto apriamo con dei pezzi che magari ci ricordiamo, che magari abbiamo dimenticato, che quando però sono usciti ci dicevano, ma però bello quello, perché no? E insomma, meno male, l'ufficio programmazione di Crystal Radio insomma ce li ributta dentro nella nostra mente, nella nostra playlist quotidiana. Oggi è lunedì 20 maggio, inizia una nuova settimana ed è importante secondo me capire un po' anche com'è la situazione in città. Lo facciamo come sempre con il traffico, lo facciamo come sempre insieme alla redazione di Luce Verde che ci dà la fotografia in tempo reale della situazione del traffico su Milano e città metropolitana. Dua Lipa 7.22 lunedì 20 maggio e avrete sicuramente detto sui giornali, ma insomma ieri chi passava da quelle parti insomma si è accorto di questa scena davvero pazzesca che è avvenuta in via Rubens. Sto parlando dell'auto elettrica appunto che ha preso fuoco in via Rubens a Milano. Leggo la Repubblica dove c'è anche il video proprio dell'auto di questa Kia elettrica che prende fuoco che poi dà fuoco anche ad altre auto che c'erano lì posteggiate proprio appena a fianco. Tre auto sono andate a fuoco ieri mattina in via Rubens all'altezza di via Caccialepori. L'ipotesi secondo alcuni testimoni è che le fiamme siano partite da una Kia elettrica che avrebbe urtato contro un massello di pavè che si trovava in mezzo alla strada dopo essere stato divelto e sollevato, forse a causa del maltempo. Dico già io, no, è sempre così quella via. Quella via tutto, cioè io pensate che io abito da quelle parti, mi capita spesso di doverci passare in motorino, faccio un giro più largo per non passare da quel tratto di via Rubens in motorino perché è ingestibile tenere in mano il motorino su quel pavè. Sta di fatto che le fiamme si sono sviluppate subito dopo l'urto. Prima dell'arrivo di vigile del fuoco, altre due auto posteggiate sono state coinvolte nell'incendio. Per fortuna nessun ferito, molto molto fumo e paura per chi passava da quelle parti. Insomma, è un'immagine davvero pazzesca. Cioè, questa auto completamente avvolta dalle fiamme. Adesso vi immagino le grandi polemiche, no? Ecco, le auto elettriche non sono sicure. Stesse cose che diciamo dell'auto GPL, no? Vi ricordate, le auto GPL sono delle bombe, non è che mi sembra che ci sono auto che esplodono qua e là. Non è l'auto elettrica a non essere sicura. Sono le nostre città, ahimè, signore, signore, a non essere sicura. Le nostre strade, in quella via ho visto motorini volare, biciclette rompersi, macchine spaccare gli amortizzatori. Cioè, quella via è assurda. Il pavè, che è bellissimo nel centro storico, che è bellissimo quando cammini a piedi, è da togliere dalle strade. Mi spiace, lo dico, è vero che se fai la manutenzione, il pavè, ma non la facciamo. Quindi, leviamo questo dannato pavè. Lì, oltretutto, in realtà il pavè servirebbe, perché c'è anche il tram, il tram viene, diciamo, ammortizzato, vengono assorbite le vibrazioni del passaggio del tram, tram che vanno al deposito. Non è una linea vera e propria quella, sono minari di tram che vanno al deposito. Oltretutto, qui si apre ancora un altro capitolo, del fatto di avere delle linee, delle rotaie in giro per la città, che vengono utilizzate solo e esclusivamente per far entrare o uscire i tram da un deposito. Cioè, usiamolo anche per farlo andare in linea a sto punto. Cioè, non capisco davvero. Però vabbè, questo sono io che sono sempre il solito rompiscatole, che non capisco perché non si possa fare una linea che entra in deposito, fa una fermata prima del deposito, fa capolinea. Dopo il deposito fa un'altra capolinea e gli facciamo fare il giro. Perché si può fare questo deposito, un minario che entra e un minario che esce. Quindi si potrebbe fare tranquillamente, ma non si può fare, non si sa. Vabbè, comunque, Via Rubens ieri ha in fiamme appunto questa auto. Cercate il video, è veramente impressionante, devo dire. Davvero, davvero, davvero impressionante qui su Via Rubens le altissime fiamme dell'auto che prende fuoco e che poi appunto fa prendere fuoco anche ad altre due auto posteggiate per un totale di tre auto che si sono viste appunto avvolte dalle fiamme e che hanno bloccato anche la circolazione per parecchie ore intorno alla zona con una grandissima colonna di fumo che ha un po', diciamo, fatto preoccupare anche chi abitava e cioè chi abita appunto nella zona o nella via. Banana Republic Stadio qua su Cristal Radio, 7.35 minuti, la nuova, la seconda parte della prima ora di trasmissione. Vado un po' a leggere i giornali dove troviamo di tutto e di più sul tema al tempo, quello che è successo appunto a Milano. Repubblica Milano, sprofondano i binari a Lancetti, il tram 2 resta fermo tutta l'estate, ATM e Comune, lavori più lunghi del previsto. Tra parentesi, è una zona dove stavano già facendo i lavori, dove sappiamo come era nata anche la polemica, no? Sulle buche, il cantiere aperto o non aperto e tutto. La complicata storia di Via dei Lancetti, iniziata con le piogge di fine febbraio, quando molte strade di Milano si sono ridotte a un colabrodo. E si allungano quindi i tempi per i cantieri di Via dei Lancetti, dove la corsia preferenziale è chiusa da quasi due mesi, in parte anche per le complicazioni dovute appunto al maltempo. La data di fine lavori non c'è, ma si stimano altri tre mesi circa, e sì. E quindi il tram 2, che passa di lì, che può passare solo di lì, perché il problema del tram è quello, che non è che potete dire, vabbè, chiudi lì e fanno passare dall'altra parte, e i binari non ci sono, quindi può passare solo di lì, niente. Fermo, tutta l'estate il 2 non passerà lì, si metteranno gli autobus sostitutivi, immagino, adesso poi vedremo ATM come comunicherà questa modifica, però niente. Quindi Lancetti, tutta bella chiusa, una bella preferenziale fatta veramente bene, devo dire, complimenti. Nel senso che sono anni che in realtà quel tratto di preferenziale fa schifo, diciamocelo, cioè è pieno di buche, non è solo dovuto alle piogge di febbraio, non è solo dovuto alle piogge di queste settimane, è una situazione, cioè l'hanno costruita male, evidentemente, o chissà cosa c'è sotto, nel senso sotto c'è la sabbia, evidentemente, quindi sprofonda giù tutto insieme, sta di fatto che è tutto da rifare, via da zero, e quindi il tram 2 resta fermo tutta l'estate. Ma il maltempo, vedete, ogni tanto fa fare anche pace e amicizia tra vari esponenti, ad esempio, dopo il nubifragio, leggiamo sempre da Repubblica Milano, Vertice, Sala, Fontana, su Seveso e Lambro, per siglare un patto sulle opere antipiena. Beh, dai, non male, 50 anni che lo diciamo che servono, non è male che adesso arriviamo, cioè questo titolo è uno di quei titoli che fa arrabbiare chiunque lo legga, e che anche quello che ha sentito parlare una volta solo di Seveso dice, e che adesso? Che cosa hanno fatto fino adesso? Ecco, perché allora, uno, le opere antipiena, ci avete detto che le avete già fatte? tipo la vasca del Seveso a Bresso. Due, stanno arrivando altre vasco, Senago, Paderno e compagnia bella, quindi non capisco perché, ci bisogno di altre opere, dobbiamo cucinare, cioè, cementifichiamo di più una zona già cementificata, complimenti davvero, ma soprattutto almeno 20 milioni di danni in Lombardia, pensate, 20 milioni di danni in Lombardia, la regione verso la richiesta di stato di calamità, e intanto si cerca di sbloccare le vasche di contenimento, ancora, cioè, sappiamo già che queste vasche fanno pena, danno disturbo a chi abita nelle vicinanze, non hanno scongiurato il problema, anzi, nel senso che non, anzi, adesso abbiamo una vasca di, una piscina olimpionica strappina di acqua schifosa, melmosa, sporca e puzzolente, e in più, mezza Milano sott'acqua, quindi, facciamone altre, perché? Perché l'idea è quella che, no, non ha funzionato perché mancavano le altre vasche, ma la domanda è, ma allora non era più logico iniziare a fare le vasche da Monte per poi arrivare a Valle e finire con quella di Milano, se serviva? Perché il dubbio che viene è, a questo punto, la domanda dall'idraulico della domenica è, ma scusate, ma se continuiamo a fare queste vasche a Monte, non è che poi quella di Milano è completamente inutile, abbiamo scavato, buttato via tre alberi, un parco inutile, abbiamo distrutto il parco Nord per fare una roba che non serviva? Cioè, è questo, complimenti, come sempre, che riuscite a far arrabbiare chiunque, sempre, bravi! Un sabato italiano, alle 7.42 di lunedì, però, insomma, perché volevo ricordarvi che, insomma, il weekend è appena passato e, insomma, il sabato è sempre il miglior giorno del weekend, no, sì, dai, è il più bello, cioè la domenica è fastidiosa, no, io porto avanti questa mia, cioè, proprio, io la domenica non la sopporto, nel senso che è un giorno completamente inutile, non si può fare niente, tra parentesi, comunque sei triste perché il giorno dopo inizi a lavorare, invece il sabato è un bel giorno, no, hai finito di lavorare il giorno prima, il sabato puoi fare le cose, puoi andare in giro, vedere, fare, disfare con gli amici e tutto, la domenica, invece, boh, secondo me, potremmo benissimo abolirla, comunque fa niente, no, perché questo è un problema, perché se aboliamo la domenica, il sabato diventa domenica e quindi, insomma, è complicato, avete capito, no, quello del concetto, comunque, allora, è successo qualcosa a Milano davvero di eclatante questo giovedì, alcuni di voi lo sanno, alcuni di voi non lo sanno, alcuni se ne sono accorti, altri se ne accorgeranno in questi giorni quando inizieranno, appunto, a uscire i dati di quello che è successo, vi leggo il titolo per farvi capire cosa ha raccontato, appunto, Massimo Tonelli su Milano Today, oltre 64.000 auto in sosta evitata, cosa ho visto mappando le strade di Milano. Ebbene sì, giovedì sera, 2.000 persone, 800 squadre, video tutorial impeccabili, organizzazioni da grande corporation multinazionale, un'app progettata alla perfezione, la pazienza contro la sosta selvaggia è terminata. Che cosa è successo? Non è ancora facile rendersene conto, forse, ma a Milano, lo scorso giovedì è successo qualcosa di davvero rilevante, inedito, unico. Nel giro di una serata alcune migliaia di cittadini si sono organizzati, ma organizzati molto molto bene, in maniera molto molto seria, e hanno contato tutte, tutte le auto in sosta abusiva sul suolo pubblico, in tutte, tutte le 3873 strade di Milano. Il progetto è inventato dal gruppo di attivisti e volontari di Sai Che Puoi, è stato denominato Via Libera, e appunto, come dicevamo, nelle prossimi giorni, come ne sentiremo parlare sicuramente tantissimo, partecipato appunto più di 2.000 persone, 800 squadre, il progetto si chiama Via Libera, è il più clamoroso, gigantesco indizio di questa tendenza, cioè di come si è rivelato un momento a suo modo storico ed epocale, cioè la partecipazione, la partecipazione di tutti, tutti i cittadini, 2.000 e passa cittadini, che insomma, in una sera, dalle 18 in poi, hanno mappato tutta la città di Milano con le, appunto, dicevamo, 3.873 strade. Come è funzionata la mappatura? Allora, durante una riunione che c'è stata prima, è stato mostrato l'utilizzo della web app, che ogni squadra aveva sul proprio cellulare. il software ha conteggiato tutte le varie strade di Milano e ha creato dei cluster, delle zone di 3-4 chilometri massimo, che ogni squadra doveva andare a coprire. Poi c'erano delle squadre che sarebbero ripassate a fare un secondo check su alcune zone campioni in modo da, diciamo, validare i dati. Ma la cosa più interessante è che c'è anche la mappa Marmocchi, cioè delle squadre fatte da bambini che mappavano, ovviamente, dei cluster, delle aree molto, molto più piccole. Grazie a questo si riesce, appunto, a mappare tutta la città e i primi dati davvero sono qualcosa di pazzesco, perché, abbiamo detto, oltre 64.000 auto in sosta vietata in un giovedì sera qualsiasi a Milano. Questo è il dato. Questa è la pazienza dei cittadini che veramente sta incominciando a non esserci più. Ma qual è il problema? Non è solo, appunto, le auto. Perché il problema, il tema qual è? È la gestione, la mala gestione delle soste delle auto. Nel senso, non è il numero di auto che è troppo alto, sicuramente. Di sera, quindi, attenzione, non stiamo parlando di gente che stava andando a lavorare, perché questo è il tema, no? Cioè, non ci sono i posti sotto le case. Insomma, questo. Crendi tutto un po' più complicato. E adesso un po' di energia, perché ci hanno scritto, Adriana ha scritto Buongiorno Fabio, mettici un po' di musica che ci dia la carica in questo lunedì. Nirvana, smell like teen spirit. Questa era per Adriana, che appunto ci ha chiesto un po' di musica che ci dia la carica in questo lunedì. Beh, io penso che più di Nirvana è un po' difficile darvi la carica in qualche maniera. Prima di passare al prossimo appuntamento, che è quello con Filippo Poletti. Leggo ancora un attimo da Milano Today la chiusura appunto di questo articolo che stavamo leggendo su quello che è successo giovedì sera. Questa mappatura completa della città di Milano fatta da 800 squadra e più di 2000 persone che si sono appunto riversate la città e con un'applicazione alla mano hanno mappato la sosta abusive in giro per la città. I dati appunto hanno richiesto giorni e giorni di elaborazione e sono impressionanti e stanno ancora uscendo perché la città sopporta 64.000 automobili in sosta abusiva che non va dimenticato si aggiungono alle centinaia di migliaia in sosta regolare. Di cui queste 64.000 37.000 sono sulla strada. Messe male ma sulla strada. 15.000 sui marciapiedi. 11.000 sotto gli alberi e nelle aree verdi. occupano, rubando alle persone aggiunge il giornalista di Milano Today una superficie pari a 32 piazze d'uomo. Allora c'è un problema ripeto e non posso dare la colpa solo a chi ha la macchina però non sarebbe sbagliato anche quello c'è un problema perché 64.000 nostri concittadini devono avere per forza quella macchina? Questa è la domanda serve per forza o no? Seconda cosa perché non hanno un posto dove mettere sta macchina? Non c'hanno dei box? Perché i box a Milano costano uno sproposito? Perché non si costruiscono garage? Perché non ci sono dei parcheggi fatti apposta invece di lasciare uno spazio così? Perché ci sono così tante auto in una città che si può anche girare tranquillamente senza auto? Ma si può veramente girare così tranquillamente senza auto? Questa è la domanda. Oggi è lunedì e lunedì è l'inizio del lavoro e quindi buon lavoro con Filippo Poletti Buon lavoro a tutti puntata speciale da dove? Da Spacca Napoli siamo in via Benedetto Croce la centralissima via di Napoli e allora vediamo insieme le tre parole chiave della settimana la prima parola chiave della settimana è congedo dell'infelicità di che cosa parliamo? Parliamo di un congedo speciale di dieci giorni previsto dalla catena di supermercati cinese Pang Dong Lai siamo nella provincia di Enan Cina centrale in sostanza per equilibrare il rapporto tra vita privata e lavorativa l'azienda ha previsto un congedo speciale di dieci giorni non sei felice non venire a lavorare in azienda ne hai il diritto congedo da seguire con attenzione la seconda parola chiave della settimana è welcome baby benvenuto bebe 20 giorni di ferie in più per ogni neogenitore papà o mamma oppure per chi adotta un bambino lo ha previsto teleperformance each interaction matters dice il motto aziendale ciascuna interazione conta e questo vale sia all'interno delle aziende che appunto all'esterno infine la terza e ultima parola chiave della settimana è premio extra vi siete meritati questo bonus per gli sforzi che avete fatto lo ha scritto chi? il gruppo Emirates a tutti i dipendenti cinque mesi di stipendio in più regalato appunto agli oltre centomila dipendenti del gruppo di proprietà del governo di Dubai utili record e lo stipendio vola e allora buon lavoro a tutti da dove abbiamo detto da Spacca Napoli con questo caffè speciale e da ultimo non dimenticate di scrivermi 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 dove? su LinkedIn per raccontarmi le vostre esperienze di lavoro vi aspetto tutti su LinkedIn ancora buon lavoro a tutti da Spacca Napoli che vi mostro in queste immagini e insomma da Mango a Mango siamo andati in pubblicità con Angelina Mango ritorniamo invece qui in diretta su Crystal Radio a Good Morning Milano con Mango con Oro alle 8 e 10 minuti appunto era il Crystal History delle 8 come sempre ogni ora una canzone del passato ma in realtà poi lo sapete che la mattina cerchiamo di mettervi un po' più di canzoni insomma di quelle che vi fanno cantare oh stamattina vi ho fatto ascoltare un sabato italiano cioè avete presente cosa vi ho fatto ascoltare questa mattina e oggi è lunedì di solito ne parliamo al giovedì di teatro ma oggi ne parliamo anche oggi perché insomma non è mai troppo anzi anzi bisognerebbe parlarne sempre di più parliamo di teatro e non solo parliamo con Alessandro Audino di Ghost buongiorno Alessandro buongiorno a te buongiorno a tutti gli ascoltatori e in collegamento con noi Lara Panighetti regista anch'essa e anche lei di Ghost buongiorno Lara ben ritrovata buongiorno a tutti buongiorno parliamo di uno spettacolo che andrà in scena proprio questa settimana a Ghost appunto al teatro Don Bosco a Bollate Madri Interrotte allora non per cavalleria ma perché è la regista facciamo parlare giustamente Lara giusto Alessandro assolutamente sì per cavalleria no 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 qui è proprio per meriti sul campo giustamente allora Lara tu sei la regista appunto di questo spettacolo Madri Interrotte di cosa stiamo parlando allora parliamo di un tema molto delicato che è quello dell'infanticidio ma in realtà lo facciamo per parlare di un'altra tematica che a me stava molto a cuore che è quella della maternità di come le donne adesso si trovano un po' in difficoltà a gestire questo ruolo materno insieme a diversi altri ruoli che si trovano ad avere e che vogliono avere giustamente e che tipo di spettacolo dobbiamo aspettarci è uno spettacolo che mischia insieme due aspetti da una parte appunto quello l'aspetto un po' più tragico della vicenda e quindi delle sofferenze di queste donne ma allo stesso tempo la parte un po' più dolce che è è quella del ritrovarsi insieme da parte di queste donne quindi di condividere gioie e dolore quindi è uno spettacolo che alterna scene in cui appunto si riflette in cui scene in cui si litiga scene in cui si ride e si condividono delle cose sono storie reali o ti sei ispirata alle storie reali come sei arrivata appunto alla realizzazione di questo spettacolo la scrittura anche da chi è scritto lo spettacolo da Lara mi sono ispirata a un testo che ho trovato mentre stavo facendo delle ricerche su altre tematiche la classica Medea e questo testo invece parlava di questa tematica di questa scrittrice e quando l'ho letto mi sono innamorata poi io ovviamente l'ho modificato ho fatto delle mie riflessioni e ci ho introdotto dei miei aspetti però questo testo già presentava una traccia molto interessante perché parlava di queste donne all'interno di questo carcere che condividevano appunto queste loro problematiche ecco allora Alessandro questo spettacolo nasce proprio dentro a Ghost ecco che cos'è Ghost e come si potrebbe definire Ghost appunto allora ricordiamo anche cos'è l'acronimo sì Ghost è un acronimo appunto quindi non è fantasma in inglese non c'è l'H ma è G-O-S-T e vuol dire gruppo oratorio spettacoli teatrali ok questa sigla perché gruppo oratorio perché noi nasciamo nell'oratorio di Cascina del Sole ma ci piace poi fare anche dei giochi di parole quindi come teatranti siamo anche degli oratori giusto giusto quindi ci piace molto questo doppia valenza del nostro acronimo e nasciamo come associazione culturale siamo nati nel 2005 l'anno prossimo facciamo 20 anni però sì non sembra ma sono già 20 anni e vabbè poi ci siamo trasformati in un APS con la riforma del terzo settore ma questo cose tecniche che fanno solo non dormire i presidenti i tesorieri e chi deve andare all'runz a registrare cose che non vi stiamo neanche a spiegare esatto esatto e la mission della nostra associazione è diffondere la cultura tramite l'arte del teatro insomma appunto mi sembra che funzioni ma sono 20 anni che lo fate sono 20 anni tra mille fatiche ma anche tante soddisfazioni però quello che mi sarebbe da dire era più comodo anzi gioco con il vostro nome fare il classico teatro dell'oratorio prendevate una volta Gesù era super star l'altra volta prendevate sette spose per sette fratelli li mettevi su facevi felici tutti e via e invece no no invece no perché diciamo che quando siamo nati 20 anni fa a bollate praticamente di teatro non c'era nulla io ricordo che il comune organizzava l'autobus che ti portava a vedere gli spettacoli teatrali a milano complimenti al comune comunque aveva trovato la soluzione interessante però è sconvolgente effettivamente esatto e quindi noi ci siamo dati questa mission di portare l'arte teatrale nel nostro comune che comunque non è piccolo sono quasi 40.000 abitanti infatti voi siete poi in una frazione noi siamo in una frazione però insomma vabbè al massimo il comune vi ha organizzato il pulmino che porta dal centro di bollate no io lo chiederemo è vero hai ragione risparmi almeno chilometri scusa in realtà devo dire devo essere sincero indipendentemente dall'amministrazione che in questi 20 anni si sono alternate diciamo che noi ci siamo sempre le amministrazioni cambiano a parte gli scherzi comunque ci sono sempre ci hanno sempre supportato in questo quindi diciamo che tutte le nostre attività hanno praticamente in automatico il patricinio del comune perché comunque garantiamo una qualità e il comune devo dire che in questo ce lo riconosce insomma Lara questo spettacolo appunto diciamo nasce proprio all'interno di Ghost e non è la prima volta che va in scena è già successo appunto che è andato in scena all'interno di Ghost come aveva risposto il pubblico e appunto mi immagino bene visto che insomma se lo riportate sì allora io sono stata molto contenta perché il pubblico risponde ero molto preoccupata perché la la tematica era importante e delicata e quindi la reazione del pubblico potrebbe poteva essere diversa e invece molti mi hanno detto che erano che erano rimasti affascinati dal fatto che si aspettavano uno spettacolo impegnativo e difficile che lo è stato ma che comunque l'hanno affrontato in maniera non dico leggera perché è impossibile però partecipata e quindi questa cosa ci ha spinto a dire bisogna anche rifarlo tanti che molte persone mi hanno detto se lo sapevo lo consigliavo a qualcuno e quindi vediamo ti ricordi quelli che ti hanno detto così valli a riprendere giovedì chi è portato questa sera ma appunto poi è molto interessante capire che insomma sono tematiche io mi è da dire che a volte facciamo un po' più passatemi il termine non facciamo più scemo di quanto è il nostro pubblico in realtà cioè abbiamo paura a volte noi di chissà se chissà come invece anzi poi ti trovi spiazzato assolutamente sì perché io trovo che il teatro in realtà è un modo esorcizza alcune cose nel senso che quando sei lì è diverso perché sei lì sei presente ci sono i tuoi fantasmi nella mente di quello che puoi pensare quindi è molto più partecipativo infatti giovedì faremo anche una riflessione insieme al pubblico cioè dopo il nostro obiettivo sarebbe di chiedere al pubblico di fermarsi e fare un dibattito con me e anche verrà una psicologa per parlare di questo dicimi essendo sul pubblico invece sì che oggi c'è questa frase che noi sentiamo spesso quando organizziamo questo tipo di spettacoli ma il pubblico si vuole divertire non è assolutamente vero il pubblico si vuole anche divertire ma vuole anche pensare vuole anche farsi delle domande perché poi noi non diamo mai nei nostri spettacoli soluzioni ovviamente anche perché poi su queste tematiche sono così complesse ma apriamo una finestra e a quel punto stimoliamo il pubblico a fare un ragionamento molto interessante questa cosa è che per forza bisogna divertirsi sempre il pubblico vuole divertire sì va si vuole divertire il pubblico vuole ragionare viene negli altri posti quindi benvenga andiamo invece con un po' di musica anche noi perché appunto il nostro pubblico vuole anche ascoltare musica e vuole anche sapere cosa succede di bello nella città di Milano e nel suo internet quindi appunto giovedì sera il 23 maggio al Teatro Don Bosco di Bollate con l'organizzazione di Gosta appunto lo spettacolo Madri Interrotte alle 21 appunto al Teatro Don Bosco rimanetevi con noi però rimanete anche voi Lara e Alessandro perché appunto adesso stiamo con un po' di musica e poi ritorniamo ancora a parlare perché io sono molto curioso anche di capire questa cosa che Gosta è un'associazione è fatta di volontari cioè questa parola che ultimamente oddio chissà cosa succederà beh lo chiediamo appunto ai protagonisti di questa storia Nemo Nemo con The Code il vincitore del Eurovision Song Contest 2024 dalla Svizzera anzi stiamo chiacchierando appunto di musica qui con Alessandro Audino in collegamento con noi Lara Panighetti che ci stanno raccontando dello spettacolo Madri Interrotte che andrà in scena appunto il 23 maggio giovedì sera alle 21 al Teatro Don Bosco avete sentito sotto un uccellino ma Lara dove sei in questo momento in questo momento bucolico l'abbiamo sentito benissimo l'abbiamo sentito Alessandro fuori dal mio lavoro perché io lavoro al nido ma il nido di uccellini cioè tu lavori in un nido di uccellini sì io lavoro in un nido di uccellini ecco ok no 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 li curo tutto il giorno giusto Lara anzi ci dai l'assessi giusto perché appunto Lara c'è detto è fuori dal suo lavoro che non è ahimè mi spiace per Lara il Teatro Carcano in cui sta andando in scena un altro spettacolo suo ma è ma molto bene anche contenta di fare questo lavoro un asilo nido cioè tu fai l'insegnante si dice insegnante anche in quel caso si immagina l'educatrice scusa scusa che fatica però le elementari si chiamano come le squadre di infanzia le medie non sono più medie ma sono secondarie di primo grado e non ci sono anche più le maestre le educatori mamma mia che fatica comunque no perché diciamo che fatto molto bene ma quello del teatro è vostro secondo lavoro ma neanche forse secondo lavoro è la grossa passione che donate ai cittadini si è una nostra passione noi come compagnia ci configuriamo come compagnia amatoriale ok e tornando ai giochi di parole non perché non siamo professionisti ma perché amiamo il teatro siamo amatori del teatro compagnia amante proprio esatto esatto quindi in realtà per noi per tutti noi che gravitiamo intorno a Ghost non è il nostro lavoro è un hobby molto impegnativo bravo Alessandro perché questo che è interessante cioè quando diciamo compagnia amatoriale uno pensa ecco al solito teatro dell'oratorio esatto no molto meglio è il meglio teatro dell'oratorio non so come dire no è vero è vero è quello nel senso che anzi a volte viene da dire è più difficile per voi che per le compagnie professionistiche perché appunto voi avete il tempo risigato dovete trovare la pagnotta a casa la si porta con un altro lavoro esatto nonostante questo nessuno fa un passo indietro perché avete voglia di farlo e continuate anzi non percepite una lira ma non è tanto poi appunto non è solo quello quindi anche tenere in piedi il teatro e tutto non è facile però insomma ce la fate e ce la fate da vent'anni sì 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 è vero non è sempre semplice perché poi in realtà anche se è un hobby e un'associazione in realtà ti scontri con delle cose che sono prettamente dal mio punto di vista come se fosse un'azienda cioè tu devi tenere un bilancio devi far quadrare i conti e ovviamente a parte il nostro tempo per fare uno spettacolo ci vogliono anche dei denari che quindi in qualche modo devi riuscire a recuperare quindi noi assolutamente non percepiamo nulla anzi diciamo sempre sicuramente mettiamo del tempo magari a volte mettiamo anche dei soldi nostri però poi quando hai la soddisfazione di fare una cosa che ti piace a te prima di tutto perché io penso che se non mi piacesse andrei in mountain bike ad esempio che è un'altra hobby che mi piace fare andare in bicicletta e poi hai comunque un riscontro del pubblico che ti viene a vedere non tanto perché ti dice che è bravo ma perché ti si avvicina e ti dice cavolo mi hai fatto pensare piuttosto che a volte i nostri spettacoli sono anche tratti da opere che magari tutti noi abbiamo conosciuto dai tempi di scuola che da allora che abbiamo odiato a scuola e che da allora non abbiamo più preso in mano e quando poi te lo ritrovi a teatro magari tra virgolette mixato in qualche nostro spettacolo dici ah caspita mi avete fatto ricordare i promessi sposi è vero è vero insomma questo è interessante quello dicevi prima amatoriale non vuol dire meno non vuol dire fatto male ma vuol dire anzi spesso veramente rifatto con tutto quell'amore che c'è verso questo verso il teatro verso poi appunto l'amatorialità forse andrebbe un po' riscoperta e fatta capire anche magari a chi fa le regole che insomma a volte magari bisogna capire perché immagino io non voglio immaginare le regole che avete per gestire il teatro e tenere in piedi il teatro non ne voglio non lo voglio neanche immaginare che non saranno le stesse della scala ma non credo che siano molto molto meno di quelle dell'Arcimboldi non sono molto diverse infatti immagino ma qui c'è un altro programma in cui ne parliamo Focus Periferia e poi se mai un giorno ne parleremo anche con voi anzi siete invitati ancora piccola pausa ancora piccola canzone poi torniamo ancora qui a parlare ancora di teatro ricordando appunto l'appuntamento di giovedì sera al teatro Don Bosco di Bollate andiamo avanti con la musica perché adesso è il momento di un salto nel passato sì con gli Ha Ha Take On Me 1985 85 Ed Sheeran con Celestial come Celestiali sono gli uccellini che sentiamo arrivare dal nostro collegamento con Lara Panighetti che sentite che roba ma in che zona sei del mondo facci capire un attimo Bollate Cormano cioè a Cormano cioè ragazzi la notizia è questa di oggi che a Cormano suonano non so che l'usignolo cosa fa cinguetta cinguetta l'usignolo canta decanta l'usignolo ok benissimo grazie Lara anche già solo per questo grazie ma grazie invece a Lara e Alessandro per quello che succederà appunto giovedì sera chi di voi vuole fare un recap di cosa succederà giovedì sera vado io vai tu Lara vado io va bene allora vi aspettiamo giovedì sera il 23 di maggio alle ore 21 al teatro Don Bosco di Bollate frazione Cascina del Sole con lo spettacolo Madri Interrotte di Lara Panighetti e con la sua regia ci tengo a citare anche l'associazione Universo Donna di Arese perché con noi gestirà il dibattito che tenteremo di fare subito dopo lo spettacolo per chiacchierare su quello che il pubblico quindi col pubblico su quello che hanno appena visto messo in scena insomma interessante il tema dello spettacolo interessante anche secondo me andare a conoscere nuovi teatri che insomma è sempre bello andare a nuovi vent'anni che sono qua nel senso che magari molti di voi vanno sempre i soliti quelli comodi quelli comodi quelli comodi nella nostra testa perché insomma sono quelli che leggiamo dappertutto poi dopo magari ti attraversi la città per andarci e magari tu sei abbaranzato e non sai che al comune di fianco a Bollate c'è invece un teatro che fa grandi cose e insomma non ci sei mai andato quindi è importante anche questo è importante conoscere il territorio e riuscire a viverlo al meglio e ancora di più è vero come dire che il pubblico vuole divertirsi ma non solo ma non è solo che poi non è che andate lì e uscite dilagnati dalla noia assolutamente no infatti è uno spettacolo certamente impegnativo ma assolutamente non noioso non triste ci sono delle scene in cui si ride perché comunque queste quattro donne che sono in carcere facciamo vedere uno spaccato di vita e succede di tutto in questo carcere a volte litigano a volte ridono e tra virgolette si divertono nonostante la situazione in cui si trovano perché comunque altrimenti anche per loro sarebbe impossibile portare avanti la loro vita Lara è difficile scrivere mischiando appunto questi registri cioè tu non puoi solamente far piangere ma non puoi far solamente ridere non puoi far solamente fare introspezioni cioè è tutto una montagna russa è difficile mischiare questi registri? ma per me non lo è stato nel senso che perché me lo sono messo come obiettivo e quindi proprio avevo nella mia testa di fare una scena in un modo e una scena in un altro e poi anche per come sono fatta io nel senso che credo che le cose importanti e complicate hanno sempre un lato sia triste ma anche felice quindi anzi a volte nel ridere trovi il piangere e viceversa ecco vedi un po' come i whatsapp che mi arrivano a me quindi ti faccio questa domanda da chi era interessato perché appunto ci sono i gli uzzignoli che cinguettano dietro a Lara Panighetti e al 331 7853 555 ci scrive il buon Nello e poi io mi glisso nel senso che io quel punto proprio spengo la radio dopo questo messaggio che scrive anche Gigliola Cinguetta bene ok grazie Lara per aver riso tu nel senso perché qui in studio è sceso il gelo si sono rotte due lampade e un microfono ha deciso di non funzionare più grazie Nello come sempre per questi momenti ecco e per questo che ti chiedevo come si fa cioè nel mentre che tu mi parlavi della serietà del progetto di qualora mi arriva un whatsapp del genere come fai? cioè è impossibile capite capite che è veramente complicato Tato Don Bosco Bollate Frazione Cascina del Sole giovedì sera 23 maggio alle 21 Madri interrotte Lara motivo per venire e non perdersi questa replica del tuo show del tuo spettacolo scusate show radiofonico perché io credo che il bello del teatro è che ti porti sempre a casa qualcosa che ti rimane dentro e secondo me questo spettacolo ti lascia qualcosa da portare a casa bene e un motivo invece per seguirvi sempre Ghost Alessandro allora secondo me perché noi facciamo molte attività e le facciamo in modo sincero bello non è male non è male non è male daccelo le coordinate per seguirvi allora la nostra sede è al Teatro Don Bosco quindi in via Cesare Battisti 14 a Bollate Frazione Cascina del Sole oltre a organizzare questa rassegna teatrale che si chiama venite a trovarci perché questo spettacolo è inserito in questa rassegna teatrale dell'ultimo appuntamento della stagione poi riprenderemo a ottobre stiamo già organizzando la nuova stagione facciamo anche corsi di teatro ed è un'attività che è quella che ci permette di vivere per fortuna e i nostri corsi sono rivolti a veramente tutte le facce di età quindi dai bambini dai sei anni fino ai diversamente bambini di 99 ovviamente suddivisi per fasce di età livelli perché ovviamente chi fa già teatro ha un livello più avanzato rispetto a chi si approccia per la prima volta e il motivo per venire a fare teatro da noi non è diventare l'attore di Hollywood ma semplicemente conoscersi e conoscere e allora conosceteli anche voi andando appunto al teatro Don Bosco di Bollate giovedì sera 23 maggio grazie mille Alessandro grazie a voi per averci ospitato grazie Lara rimani lì però perché sei in un quadro che bellissimo di 5T che ti cerchiano grazie mille davvero grazie ancora teatro Don Bosco Ghost Bollate a voi grazie mille Marco Mengoni Marco Mengoni tutti i miei ricordi e ricordatevi anche voi di andare invece giovedì sera al teatro Don Bosco di Bollate dove l'associazione Ghost con la regia di Lara Panighetti mette in scena Madri Interrotte quindi andate a vedere mi raccomando magari ci vediamo anche che ne sapete magari vedete me oppure Elisa della produzione che siamo andati a vedere lo spettacolo perché noi insomma dobbiamo andare anche a vedere capire non è che vi consigliamo cose che poi non andiamo a fare non siamo i ribi che vi dice gli eventi della settimana a cui non andrebbe noi siamo quelli che invece vi diciamo le cose e poi ci andiamo anche quindi è marchio di garanzia diciamo come la garanzia è quella di avere dopo di noi qualcuno che sa fare la radio la sa fare benissimo che sa raccontare benissimo la musica ma la sa raccontare perché il problema della musica è che la musica non andrebbe raccontata tutte le ascolti e basta ma invece se la sa raccontare bene se sa raccontare bene il perché hai delle situazioni in cui puoi vivere meglio l'ascolto di una canzone beh quello è il modo migliore per approcciarsi alla musica per appassionarsi alla musica l'ogni mattina alle 9.05 lo fa Ambrogio Curti in senti questa tutte le mattine Ambrogio ci racconta la musica ci racconta gli aneddoti che ci sono dietro ci racconta perché una canzone nasce o perché una canzone arriva al successo o perché altre invece magari non arrivano al successo ma sono degne di essere raccontate lo fa ogni mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì con appunto senti questa e il lunedì invece ci dà un'idea di quello che succederà durante la settimana e quindi caro il mio Ambrogio ti do la linea per farci un po' diciamo il sommario l'indice della settimana di senti questa tutti i giorni alle 9.05 su Cristal Radio Ambrogio a te e l'abbiamo sentita molto bene Ambrogio l'abbiamo sentita benissimo l'abbiamo sentito tutto tutto quanto quanta musica wow io davvero adesso oggi mi prendo un'oretta di tempo libero perché dopo il mio problema è che finisco alle 9 quindi io devo fare allora colazione più di tutto l'importante è quello poi devo dare retta alla povere Elisa che mi dice allora domani guarda che c'è questo io sì 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 poi dopo 10 minuti dico chi è che c'è domani quindi insomma devo stare attento devo stare attento alla regia che mi dice guarda che c'è da tagliare il pezzo che pezzo mettiamo che pezzo non mettiamo guarda che sui social dobbiamo mettere le cose e quindi io mi perdo sempre senti questa devo trovare un modo ma in realtà adesso insomma devo trovare un modo oggi mi prendo un'ora di pausa va bene Elisa me lo dici alle 10 chi è che c'è chi è che c'è domani c'è qualcuno domani a proposito sì c'è qualcuno sì sì c'è qualcuno ok perfetto abbiamo tutta settimana con ospiti che bello dai mi piace mi piace mi piace stiamo arrivati alla fine però tutto bello tutto bello ma quando ci si diverte il tempo passa ebbene sì sono già le 8 e 54 e sapete che come sempre intorno a quest'ora parte la nostra sigla Sly and the Family Stone Dance to the Music la nostra sigla vi dice che alle 8 e 54 minuti volge al termine la puntata di oggi lunedì 20 maggio non vi starò a dire che dopo di noi andrà in onda Ambrogio Curti con Senti Questa ma ve l'ho già detto e quindi ve lo ripeto ancora invece dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa e allora nella cercare di ricordarvi cose vi ricordo anche l'appuntamento di giovedì 23 maggio alle ore 21 al Teatro Don Bosco di Bollate con Madri Interrotte di scritto e diretto da Lara Panighetti una produzione credo si dica così dell'associazione Ghost appunto di Bollate io non so voi ma credo proprio che la radio sia alquanto terapeutica vi confesso che questa mattina l'inizio della trasmissione è stata alquanto roccambolesca e difficile a livello fisico soprattutto ma adesso vorrei avere almeno altre due ore di trasmissione da passare insieme a voi insomma c'è poco da fare la compagnia che mi fa tutte le mattine mi fa solamente bene e spero che anche queste voci appunto vi facciano compagnia a voi le voci che arrivano qui dal vostro studio dal nostro studio di Good Morning Milano tutte le mattine su Crystal Radio dalle 7 alle 9 vi do appuntamento domani ciao a tutti e buona giornata